Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. L'area anticiclonica ormai presente in Mediterraneo da tantissimi giorni continuerà a stazionare non solo alle nostre latitudini ma in buona parte dell'Europa nei prossimi giorni, garantendo un finale di settimana dai connotati molto stabili sebbene le temperature non saliranno in modo eccessivo rispetto ai valori medi del periodo. Nello specifico in Abruzzo anche per domani cielo sereno in tutti i settori e solo qualche occasionale nuvora durante la giornata, foschie e nebbie però possibili dalla sera notte soprattutto nelle aree costiere. La ventilazione sarà debole o assente nelle aree interne e a regime di brezza nelle coste, il mare calmo in tutti i settori. Infine un'occhiata alle temperature, le minime della notte comprese tra 6 e 15 gradi e le massime di domani stazionarie con valori compresi tra 20 e 23 gradi. Per il meteo è tutto, buon proseguimento di serata.